Elezioni politiche in Etiopia dove il partito rivoluzionario etiope al potere da oltre 20 anni è dato il netto vantaggio sull'opposizione che secondo alcuni critici sarebbe praticamente nesistente. Il paese figura oggi tra le economie africane a crescere più velocemente e i risultati finali sono attesi entro il prossimo mese.